Le borse asiatiche hanno aperto in forte calo, accentuando i timori di un venerdì nero per l'Europa. Tokyo ha chiuso la prima parte degli scambi a meno 2,15%, con i titoli delle aziende esportatrici sottoposti a grande pressione, in calo anche Shanghai e Hong Kong. Non si arresta dunque l'ondata di pessimismo che ieri ha fatto registrare una delle giornate più buie per i listini europei. È stato il peggior calo dal marzo 2009, che ha bruciato quasi 299 miliardi di euro di capitalizzazione. La liquidazione dei titoli ha riguardato tutti i settori, con automobili e banche, che hanno subito le peggiori perdite.